Musica Governo al lavoro per preparare la manovra. Priorità è il caro bollette per sostenere famiglie e imprese. Previsto un pacchetto di aiuti a cui saranno destinati i tre quarti delle risorse. La Russia accusa la Gran Bretagna per le navi colpite a Sebastopoli. Ha aiutato l'Ucraina a preparare l'attacco, dicono a Mosca, e il Cremlino sospende l'accordo sul grano chiedendo la convocazione del Consiglio di Sicurezza. I giovani devono avere come motto, mi interessa. Il Papa invita i ragazzi di azione cattolica a impegnarsi nella realtà sociale. La miseria, dice Francesco, è il frutto di ingiustizie da estirpare. La migliore prevenzione è agire sullo stile di vita. Giornata mondiale contro l'ictus, attenzione a cibo, fumo e alcol e ad alcuni fattori di rischio come ipertensione e diabete. Buonasera, ben trovati a seguire il TG2000. In primo piano la politica e il governo è al lavoro per mettere a punto la legge di bilancio che conterrà interventi importanti sulle bollette dell'energia. Il servizio di Fabio Bolzetta, vediamo. L'allarma inflazione continua a far decollare ad ottobre i prezzi dell'energia con l'elettricità che sul mercato libero quadruplica rispetto a ottobre 2021 con un aumento del 329% e di oltre 91% sul mercato tutelato. Lo denuncia il Codacons elaborando i dati Istat sull'aumento dell'inflazione. Convocato lunedì alle 12 il Consiglio dei Ministri perché mentre sta per chiudersi è questione di giorni la partita dei sottosegretari e viceministri che andranno a completare la squadra di governo l'esecutivo guidato da Giorgio Meloni è al lavoro sulla prossima manovra economica. Tra gli obiettivi della prima che sarà varata dal neo-governo quello di sostenere le famiglie e le imprese per far fronte al caro energia. Secondo quanto trapela da fonti vicine al dossier il governo avrebbe scelto di destinare il 75% delle risorse a disposizione per promuovere aiuti contro il caro bollette. Il 25% invece spetterà al capitolo del fisco come la flat tax e a quello delle pensioni. Oltre a sostenere strumenti per favorire la competitività delle imprese sarebbe infatti allo studio un meccanismo per incentivare la permanenza al lavoro per gli over 63. Secondo quanto anticipato il vicepremiere Matteo Salvini un miliardo ricavato dalla reddito di cittadinanza servirà a finanziare nel 2023 quota 102 per le pensioni. Gli uffici del Tesoro stanno lavorando alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza la cornice entro la quale verrà disegnata la prossima legge di bilancio. Per formularla manca ancora una cifra il dato del pile italiano del terzo trimestre che verrà reso noto dall'Istat lunedì mattina. Poi approvata la Nadef verrà messo a punto il decreto ai relativi collegati. Non solo prezzi record per l'energia la corsa dell'inflazione impatta sempre di più sul carrello della spesa con i prezzi del burro, dello zucchero e del riso che rincarano sempre di più. Sentiamo allora le voci dei consumatori. Sto facendo delle rinunce e cerco di prendere il minimo indispensabile sulla frutta, sull'affettati, formaggi e via discorrendo. Ma in realtà io adesso non ci sto facendo troppo caso al cibo. Più che altro anche io sto cercando magari di fare un pochino più attenzione al riscaldamento, la luce, corrente, gas, benzina. In questo momento non tante nel senso che non mi sono ancora messo lì. E diciamo forse sono un po' più attento al riscaldamento, al gas magari in casa, alla luce. Quello sì, quello ho visto un po' di innanziamento. Sulla spesa non mi sono tanto accorto. Io ho visto che il riso ero addoppiato. Il riso che io prendevo solo per il cane, quello base, ma dalla carne, le pesce, tutto. E quello che è in offerta. Mangiamo in base alle offerte. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha deposto una corona di alloro sulla tomba del milite ignoto. Un picchetto militare ha reso gli onori al Premier prima di risalire in auto al termine della breve cerimonia. Meloni è stata applaudita a lungo dai cittadini radonati a Piazza Venezia. Il Premier ha ricambiato salutando e sorridendo e giovedì prossimo sarà a Bruxelles per incontrare i vertici delle istituzioni europee. Ora il conflitto in Ucraina con Mosca che accusa la Gran Bretagna di aver attaccato quattro navi russe a Sebastopoli. Accuse immediatamente respinte da Londra. Ce ne parla Massimiliano Cocchi. Le quattro navi da guerra colpite all'alba di oggi nel porto di Sebastopoli in Crimea servivano a garantire la sicurezza del corridoio del grano e per questo, spiega il portavoce del Ministero della Difesa, la Russia sospende a tempo indeterminato la sua partecipazione all'accordo. È una decisione con pesanti ricadute. Quel corridoio, da luglio ad oggi, ha permesso infatti l'esportazione di circa 9 milioni di tonnellate di cereali, grano incluso, consentendo così di abbassare i prezzi tra le altre cose di pasta e farina. La prima reazione è quella delle Nazioni Unite che hanno chiesto a Mosca di non mettere a rischio uno sforzo umanitario fondamentale per garantire l'accesso al cibo per milioni di persone in tutto il mondo. Il governo ucraino, che non ha rivendicato l'attacco, dice che la Russia usa un falso pretesto per bloccare il corridoio del grano, mentre Mosca rilancia le accuse, coinvolgendo anche la Gran Bretagna che avrebbe partecipato alla pianificazione dell'attacco, a quello di oggi, ma anche al sabotaggio del gasdotto Nord Stream, accuse farneticanti la risposta di Londra. Nelle ultime ore, intanto, bombardamenti russi hanno colpito la città di Nikopol, poco distante dalla centrale nucleare di Saporizia. Danneggiate pesantemente le reti elettriche e le linee del gas, ma anche diverse abitazioni civili. Dopo 248 giorni di guerra, la procura generale di Kiev ha reso noto che sono 430 bambini rimasti uccisi, più di 800 quelli feriti. Sono solo quelli accertati, perché, ha spiegato la stessa procura, i numeri reali sono sicuramente più alti. Ci spostiamo in Brasile, ballottaggio domani per scegliere il prossimo presidente del paese. La sfida è tra l'attuale presidente di destra, Bolsonaro, e il leader di sinistra, Lula da Silva. Sentiamo Marco Burini. Domani può perdere, ma la sua figura, ciò che rappresenta, è destinata a restare. Come Trump, Bolsonaro non è un meteorite piovuto sulla democrazia, ma l'ultimo stadio della destra al potere, alleata con l'establishment finanziario e con i settori più conservatori del cristianesimo, specie quello evangelico neopentecostale, abile nell'uso della comunicazione, anzitutto i social, dove gli avversari vengono demonizzati e le elezioni sono una battaglia tra il bene e il male, come ha detto l'ex parà nostalgico della dittatura, che al primo turno era dato per spacciato e invece ha perso di poco, conquistando tra l'altro il governo di diversi stati della federazione e molti seggi al congresso. Oggi i sondaggi lo danno indietro di cinque punti, pochi perché Lula possa dirsi sicuro della vittoria. Il leader del Partito dei Lavoratori promette un governo stabile e credibile dopo gli sconquassi di Bolsonaro nella salute, gestione sciagurata della pandemia, nell'ambiente, Amazzonia mai così minacciata e saccheggiata, nella giustizia sociale, disprezzo verso donne, comunità LGBT, afro-brasiliani. Eppure Bolsonaro e il suo entourage sono stati bravissimi a dare voce alle paure e alla confusione di molta gente, a mobilitare i propri elettori, anzi tifosi, visto che una delle mosse più riuscite è stata quella di appropriarsi della maglia della Sele Sao, la nazionale di calcio. Come a dire, i veri brasiliani siamo noi, una battaglia identitaria che non finisce domani. Strage di Halloween in Corea del Sud a Seule durante i festeggiamenti sarebbero rimaste uccise nella calca al momento 100 persone. Questo è l'ultimo bilancio fornito dai vigili del fuoco della capitale che parlano anche di almeno 150 feriti. I soccorritori hanno praticato a decine di persone il massaggio cardiaco per tentare di rianimarle. Siate credibili e interessatevi alla realtà sociale perché il menefreghismo è peggio del cancro. Questa l'esortazione di Papa Francesco ai giovani dell'Azione Cattolica. Il servizio di Paolo Fucini. Non me ne frego, ma mi interessa. Questo, dice Francesco, è il nostro motto di cristiani. Perciò si raccomanda... State attenti voi che è più pericolosa di un cancro la malattia del menefreghismo nei giovani. Per favore. Atmosfera di festa oggi in Aula Nervi e accoglienza entusiasta per il Papa con cori e batti mani. Almeno sapete fare rumore, è una cosa già, è avanti. Francesco scherza coi 2000 presenti in platea. Sono i responsabili parrocchiali dei giovani di azione cattolica di tutta Italia. Quanti giovani, esclama Grato e il Papa, si sono formati alla vostra scuola imparando che nella Chiesa tutti siamo fratelli e protagonisti, che il cristiano si impegna nella realtà sociale, che la miseria non è un destino di alcuni sfortunati. Ma quasi sempre il frutto di ingiustizie da stirpare. Francesco sottoscrive il programma dei giovani di AC, cioè esser giovani credenti, responsabili, credibili, come il lievito e il sale del Vangelo, con un'avvertenza però. Se stando nel mondo, ci mondializziamo, perdiamo la novità di Cristo e non abbiamo più niente da dire o da dare. A credenti e credibili, poi aggiunge felici e sorridenti. Guai ai giovani con la faccia di veglia funebre. E ancora, è vero che oggi, dopo la pandemia, la dimensione comunitaria si è indebolita. Individualismo e tendenza a relazionarsi a distanza contagiano anche la Chiesa. Attenti però. La Chiesa non va avanti con le riunioni. Ma la malattia più grave delle parrocchie è un'altra, il Papa ribadisce. Per favore, chiacchiericcio non è cristiano, è diabolico, perché divide. Attenti a giovani, voi giovani, per favore, no. Lasciamo questo per le zitelle. Avete visto il grande entusiasmo dei giovani di azione cattolica per l'incontro con il Papa. Ma come hanno accolto le esortazioni di Francesco? Ascoltiamo quello che ci hanno detto, vediamo. è stato emozionante quando il Papa ha invitato tutti i giovani a essere testimoni, credenti e credibili, a fare sintesi tra fede e vita. siamo grati per questo richiamo soprattutto alla credibilità che è il vero mezzo dell'annuncio nel tempo che stiamo vivendo. Le parole del Papa che possono segnare il cammino prossimo dell'associazione quali sono? Il fatto proprio di essere il lievito in questo mondo e quindi essere un qualcosa che possiamo ispirare gli altri, ecco. Il fatto di non essere tristi, di non avere musi lunghi, ma di essere sempre gioiosi, perché la gioia è una caratteristica di tutti i giovani, in particolare l'azione cattolica. Lui ci ha rimandato comunque anche, ha riutilizzato anche le parole quelle che di solito noi utilizziamo sempre e quindi quello di rimanere sempre impastati nella parrocchia è secondo me la cosa più bella. Quindi torno a casa con quella parola lì, insomma, che mi risuona e mi riecheggia ed essere comunque attivo ed essere insomma testimone di quanto noi facciamo con i ragazzi e quanto i ragazzi fanno anche per noi. Noi giovani forse non siamo più quelli ideologizzati, però abbiamo capacità concrete, abbiamo idee concrete, siamo capaci di grandi passioni se qualcuno parla a noi, se si accetta che ci impegniamo non come vogliono gli altri ma come noi vogliamo impegnarci, come noi sappiamo impegnarci. Allora siamo capaci poi di grandi slanci, di grandi passioni e di grande impegno. è durato oltre mezz'ora il colloquio tra il Papa e il primo ministro del Gran Ducato di Lussemburgo Xavier Bettel tra i temi affrontati la guerra in Ucraina e l'impegno per la pace. Si è parlato inoltre di altre questioni a carattere europeo ed internazionale tra cui la crisi migratoria e la necessità di fornire assistenza ai profughi e ai rifugiati. Oltre 10 milioni di persone si stanno spostando in queste ore per il ponte di Ogni Santi da oggi fino al primo novembre. Invogliati dal Bel Tempo quasi 3 milioni di turisti pernotteranno in alberghi ed altre strutture ricettive. Attesi all'aeroporto di Fiumicino più di 500 mila passeggeri tra arrivi e partenze. Sentiamo Beatrice Bossi. Caldo anomalo e temperature fuori stagione chiamano l'estate ma siamo alle porte di novembre e gli italiani non intendono ancora rinunciare al mare. Questa non è la Sicilia ma la Liguria. I genovesi oggi non hanno perso l'occasione di trascorrere una giornata in spiaggia e più audaci anche di fare un tuffo in mare. Il lungo ponte di Ogni Santi è già iniziato. Quasi 12 milioni di italiani sono in viaggio secondo Federalberghi. Si riducono a 7 per Federturismo ma entrambe le stime fanno gioire gli imprenditori del settore che tornano a registrare finalmente i numeri del 2019. A Roma l'84% delle strutture ricettive è esaurito. Le città d'arte sono state prese d'assalto e scelte come mete anche dai turisti stranieri. Quasi 2 milioni quelli atterrati in Italia per trascorrere il weekend nel bel paese. Siamo andando a Budapest siamo 4 giorni a Budapest Solo il 15% dei viaggiatori italiani invece ha scelto mete oltre confine il restante 85 è rimasto a godere delle bellezze nostrane Borghi, Terme e Montagna prima che il caro Energia svuoti il portafoglio. 26.802 nuovi casi di Covid-19 sono stati registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati del bollettino del Ministero della Salute 76 le persone decedute. E oggi ricorre la giornata mondiale per la prevenzione dell'ictus fondamentale la prevenzione riconoscere presto i sintomi principali dell'ictus ci dice tutto Federico Plotti Debolezza da un lato del corpo bocca storta difficoltà a parlare o comprendere vista sdoppiato campo visivo ridotto mal di testa violento improvviso insorgenza di uno stato confusionale mancanza di coordinazione e di equilibrio sono tutti segnali che potrebbero presagire l'arrivo di un ictus se improvvisamente ci accorgiamo anche solo di uno di questi è assolutamente necessario e vitale chiamare subito il 118 la tempestività può fare la differenza e salvare letteralmente la vita oggi si celebra la giornata mondiale dell'ictus che quest'anno punta proprio sulla sensibilizzazione dell'opinione pubblica soprattutto sui segnali dell'ictus e sui benefici di una tempestiva assistenza medica d'emergenza in Italia sono oltre 150.000 le persone colpite dall'ictus celebrale ogni anno la metà di queste che riesce a sopravvivere deve però fare i conti con inabilità anche gravi e i numeri sono in aumento ad influire sulle cause di questo danno celebrale causato dall'improvvisa chiusura o la rottura di un vaso sanguigno ci sono fattori fissi e non modificabili come l'età il sesso i maschi sono più a rischio e la familiarità ma ci sono fattori su cui possiamo intervenire e riguardano tutti il nostro stile di vita a partire dalla scorretta alimentazione la sedentarietà il fumo l'obesità ma poi ci sono anche le patologie come l'ipertensione il diabete e le cardiopatie questa notte ricordatevi l'ancette dell'orologio indietro di un'ora torna infatti in tutta Europa l'ora solare il servizio di Letizia Davoli l'ancette indietro di un'ora e 60 minuti di sonno in più che non dispiaceranno di sicuro a nessuno stanotte in tutta Europa torna l'ora solare gli orologi si riallineano all'ora del meridiano fondamentale cioè al fuso orario di riferimento un passaggio che in un certo modo preannuncia l'arrivo dell'inverno e dell'aumento del numero delle ore di buio insomma nonostante in Italia le temperature siano ancora alte è un definitivo addio all'estate 2022 un passaggio che gli anni scorsi non metteva particolare preoccupazione se non il panico di non capire quale ora fosse di preciso al risveglio ma questo 2022 ha portato con sé all'esplosione dei prezzi dell'energia e un drammatico calo nella capacità di spesa delle famiglie e il dubbio è se non fosse opportuno proseguire nello sfruttare anche in inverno i benefici dell'ora legale quantificati da Terna in un guadagno per gli italiani di 190 milioni di euro in meno nelle bollette in sette mesi di spostamento dell'ora non solo grazie al minor consumo di energia si è evitata l'emissione di 200 mila tonnellate di CO2 tuttavia l'astronomia non fa sconti nei mesi invernali le ore di buio sono di più rispetto a quelle di luce e i benefici estivi si perderebbero nel maggior utilizzo di elettricità e gas anche per i riscaldamenti il dibattito tra i pro e i contro resta aperto intanto però ricordiamoci questa notte di aggiornare gli orologi e adesso con Vincenzo Grienti andiamo indietro nel tempo per scoprire un mulino ad acqua pensate della metà del settecento ancora funzionante un'esperienza di recupero della tradizione contadina che testimonia quanto il grano resti ancora un bene molto prezioso vediamo scorre dalla roccia l'acqua che spinge la ruota palette di uno dei più antichi mulini italiani ancora funzionanti e immerso nelle campagne di Cavadispica in Sicilio orientale produce farina di grano duro e cereali in genere è un mulino di tipo arabo quindi noi abbiamo intanto una vasca di decantazione prima che l'acqua raggiunga un recipiente conico di 11 metri che ha anche un'inclinazione del 35% e questo ci permette di mandare alla ruota palette posta in un'orizzontale con una certa inclinazione l'acqua che fa da spinta e l'asse centrale quindi l'albero motore della ruota trasferisce il movimento alla sovrana costruito nella seconda metà del 1700 il mulino è meta di turisti da tutto il mondo e conserva ancora la casa del mugnaio alloggiata in una grotta con annessi fienile e stalla il mulino ha la presenza di due macine una inferiore che fa da basamento quella è una macina fissa e poi la sovrana che è la macina superiore che invece è quella che sfiscia il prodotto e dà luogo ad una farina integra vuol dire un grano macinato che ancora ha tutte le sue parti di fibre quindi crusca cruschello tritello che ha la presenza dell'olio di germe di grano perché è una frantumazione del grano nella sua interezza e poi successivamente si ha la possibilità di separare le diverse parti per ottenere anche una farina raffinata un tempo un tempo l'acqua arrivava dalla sorgente di Baravitalla che riforniva l'intero territorio di Cava Ispica oggi non essendoci più presenza di acqua tranne che di quella torrentizia viene prelevata da un pozzo riattivando così la funzionalità dell'antico mulino una tradizione tramandata da quattro generazioni dalla famiglia Cerruto che testimonia una civiltà contadina ormai estinta ma dal quale è possibile trarre insegnamenti per il futuro ci fermiamo qui grazie per aver seguito il TG2000 vi lascio ora al meteo e poi a Seoul con Monica Mondo che ospita questa sera l'artista Marco Goldino a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata e di una domenica serena